Buongiorno a Tullemonde, oggi è il 13 settembre e oggi dobbiamo fare i pacchi e poi dobbiamo andare a nutrire i miei amici che stanno studiando un'altra volta, esattamente come ieri, e questa è un'altra giornata di fuori sessione, fuori sede. Qua c'è Monica che sta mangiando, ciao Monica, e qua sto facendo le creppe perché il nostro frigo è vuoto, è composto solo di farina, 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 uova, e boh, e altre cose, e latte, e basta, e poi qua dentro non c'è niente, ecco a voi la colazione campioni. Bene, ripartiamo da dove eravamo rimasti. Allora, per oggi non abbiamo finito di mettere a posto, però abbiamo finito di mettere a posto. E quindi basta, adesso basta, con sto tempo, un po' così, vabbè, si sta prendendo, a fare un giro in cilento con la Tiziana, e poi si va a cucinare. Beh, ma tipo, quanto è bella Torino con i palazzi così, quanto sono belli, quanto sono belli i palazzi così. Eh beh, mi piace San Carlo, ma guarda là che bellezza, sì, ciao, ciao Re, come va? Tutto bene? Mamma mia che bellezza, proprio buona arena, proprio bella, bella, bella. Anche la spesa è stata fatta, che verrà rimborsata ovviamente. E niente, adesso si va a cucinare, tranquillo, nel chill, e cuciniamo un'altra parte, oggi cuciniamo per altre persone. Va bene così, va bene così. Allora, siamo arrivate qua dalle studiose che non stanno ovviamente studiando. Qua stiamo facendo riso venere, gamberetti e zucchine e pomodoro. Molto buono, l'agente qua verrà sfamata a dovere, anche lei verrà sfamata a dovere, e basta, questa è, buona. Allora, non abbiamo fatto in tempo a fare il video, a fare la foto, ma abbiamo già finito tutto, spazzato tutto. Com'era? Buonissima. Com'era? Buonissima. Com'era? Troppo. A posto. E comunque i palazzi noci del Lidl? Buonissima. Buonissima. E qua abbiamo una bella salsiccia calabrese. Ah, qua abbiamo i pacchi, ce l'ha dato i pacchi, adesso dobbiamo portarli in bici, esattamente come ieri. Bene. Non ce la faccio? Ha detto che non ce la faccio, ce la faccio. Bene, io ho fatto un reposino rigenerante di due ore, sto a una craga ma adesso, gelato, per finire la giornata, per friso, per cesso. Andiamo a prenderci questo gelato, manco. Gelato. Beh, la giornata finisce qua, con bel gelato. E noi ci vediamo domani. Siamo felici di essere senza Rossano. Eh, non sanno chi sia però Rossano. A chi lo stiamo facendo questo video? A YouTube.